Buonasera a tutti, dalla vostra Angela Vidal. Oggi seguiremo una pattuglia di pompieri del loro giro notturno per le strade della nostra città. Siamo di fronte alla porta della casa in cui pare ci sia. Una vecchina che deve avere un problema. I vicini... Ma signora, fuori alla polizia! Basta, fuori alla polizia! Continua a registrare! Guardate subito un'ambulanza. Pesa, è urgente, molto urgente. È una situazione intollerabile! Ci sono due morti! Un ufficiale sanitario, come ci avevano preannunciato, è appena entrato nell'edificio e continuano a dirci che non sta succedendo niente. Non finisci la palla, non te la faccio! Me ne fotto te quel che dicono, le riprese li facciamo. Raccontiamo quel che sta succedendo, cazzo! Che cos'era? Vieni da lì dentro. Vieni da lì dentro. Lo riprendi tutto. Puro che puttana.